Eeeh... Benvenuti in questo nuovissimo video con i Bricks Oggi siamo qua sulla serie di Brawl Stars Facciamo un po' di partite Super chest opening Box opening, scusate Prima di cominciare con il video Però vi ricordo di commentare Lasciamo un bel mi piace E condivido con tutti i vostri amici Detto questo vediamo subito il game Vi faccio vedere Sto a 4357 Nulla di che, non sono ne alto, ne basso Sto a pieno piano lo scanto Stiamo insieme al buon Namine Potenzialmente facciamo due partite E poi ci blocchiamo un po' di ricompense Che ne abbiamo parecchi da fare Parecchi, parecchi Giochiamo solo i Benze 2 Quindi entriamo in game Buon video Due partite come vanno vanno Non vabbè niente Possiamo perdere, vincere Non mi interessa Qualunque fio il risultato Qua sicuramente si pensa sempre di vincere Ottimo Grande Io ci ho pensato adesso Ma ho usato per una volta questo brawler Io non so ovviamente Qual è la tua ultima Che fortuna c'è la minera Che fortuna c'è la minera Che fortuna c'è la minera Questa è la minera Il pro player è sempre meglio Io sono più buone Diece Ma lei c'ha il brawler Che è Mazzato Mentre io Paracolo Ma è bravo Tu sono più dettagli tecnici Che Uuuuuh Non mi troppo io Però, eh Ehm Ehm Non li da Diece 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 aiuto! aiuto! dai mosami! yes! ok una vinta! ottimo dire guardate prima parte che faccio la premissima! la premissima! eh! quindi! dai! seconda partita e poi andiamo subito a fare il box opening! speriamo di trovare un brawler nuovo almeno! o al massimo punti! come è stato prima! quando il cavo è lungo! quella trattore di tiro! si così! ottimo! adesso un suo gruppo vale come tre miei! ah! wow! ahia! eh ragazzi niente! io ho detto! abbiamo trovato il mostro! abbiamo trovato il mostro! grande dammine! andiamo avanti io! oh! l'ho fatto fuori anch'io eh! guardo sto cipci vozi! niente! ahah! però tocco adesso! già sono un colpo! non è altro che come gli altri! si cae velocemente! ti manca su! no no no! ho avuto paurissima! ehi! vuoi andare! vieni qua! boom bitch! grande! grande dammine! grandissima! ti ringrazio come al solito! per giocare insieme a me! ahem! ahem! andiamo a vedere un po' insieme tutte le varie pezze del passo! vabbè! qua! ci ho 50 punti! ci ho 50 punti! vuole mettere a qualcuno di leggendario! quindi! o a beh! o a sandy! o a gelindo! 3-2! mi piace forse di piu' gelindo! anche Bea mi piaceva tirarlo da su eh! però! ci sono in giro tra gelindo e jacky! ma io tiro qua! matto! jacky! 200 monete! ma io sono sempre bene! e poi ragazzi andiamo qua! e come vedete! a parte le gemmette! e me ne ho portito un ditino una volta! vabbè! 50 o no! non fa niente! abbiamo un bel po' di cosine da sbloccare! arriverà! adesso lo giuro subito! arriverà! un nuovo video nei prossimi giorni! in cui! scioppo il pass! perchè! riesco ad arrivare 169 gemme! pulite 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 pulite! e prenderemo anche le compense del pass! ma per adesso! sotto come vedete in questo stante! immediatamente voglio la vostra energia! e andiamo subito! dai! bom! adesso mi ricordo mai! quante casse devo becchiare! quanti numeri! io vado! monete! poccio! nica! e gelindo! allora gelindo! lo volevo prima! cassa piccola! monete! carla! e semino! vabbè! stiamo scaldando eh! cassa enorme! oh! monete! semino! jesse! e jacky! vabbè! jacky! mi piace! monete! monete! bull! el primo! el primo! el primo! e scaldi! adesso! non ci saranno molto bene ragazzi eh! si cadono un po' poi le dita dai! 10 14 15 16 17 17! monete! bull! bea! gelindo! un po' poi! ok! se lo trovo qualcosa dentro le prossime due! facciamo un'altra partita! io e aminet! che... potremo via la sfiga! Nita! becarla! niente! cassa enorme! cassa enorme! monete! rosa! sandy! e jesse! no 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 no! no 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 no! aminet! stonato la partita che... devo portar via sfiga! dai 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 dai! dai 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 magari perdendo qua posso vincere un po' le... no non voglio perdere non voglio perdere dai 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 ehi ma dove vuoi andare cicci puzzi che non sei non c'è nessuno in giro non ci vuole la cassetta dai ottimo uh doppia cassa incostruita grande andiamo 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 ragazzi mi ricordo comunque che mi trovate tutti i pomeriggi in live alle due e mezza a tre di pomeriggio guardatevi due e mezza a tre di pomeriggio o alle diciamo otto e mezza nove di sera o qua sul sito rosso o sul sito viola sempre con nove polizia ma adesso sono dieci sparo ok niente ma ci potete abbiamo dieci power up potenziamenti come volete ma non è facile per niente eh 12 power up aiuto 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 mi voglio gg 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 per voi gg dai ragazzi eh concludiamo il video concludiamo il video apriamo le ultime cassette mancano poche io spero io spero in questa io spero in questa cassa io spero in questa apriamo 5 già non c'è la stessa opzione porca vacca bombardino 2 carl bea e stecca ragazzi mi sa che qua scuro brics bombardino uuuh ma invece l'ho chiamato subito cos'è che mi dai mi piacerebbe il corbaccio mi piacerebbe il corbaccio ragazzi il corbaccio è il corbaccio è il corbaccio guadpleto nooOO learned i gadge Management ma zak coincide il corbaccio è il cotto sgc pushup al secondo per cinque secondi bello eh noi vogliamo un brawler nuovo è importante c'è di apatron è pottissimo come gadget eh! però io voglio un po' rosa! Giboyan! Monete! Non c'è niente, è il primo rosa! Cassa enorme, dai! Monete! Brock! Niente, boh! E ticca, va bene! Dieci gemme, le nostre dieci gemme che serviranno per... Allora vi faccio vedere, per attivare il pass, 169 pulitissime, prossimo video ragazzi sintonizzatevi, scioppiamo il pass, casse enorme, ultime 3 casse, dai! Monete! Carl! Dick! Vabbè, il bonus del gettone va sempre benissimo! Penultima cassa! Monete! Boccio! E stecca! Ultima cassa! Infondetemi come Goku l'energia, no? 2! Ma che schifo! Semino era il primo! Stavolta Scurobricks non ha scurato abbastanza! Il gadget è buono, eh! Il gadget è buono, eh! Il gadget è buono, eh! Non è malvagio, eh! Però... Guarda che l'avevo perso adesso, non lo vuono più! Vabbè, non do questo per provarlo! Guarda, guarda, guarda! Eh, boh! Boccio! Boccio! Boccio, vedi! C'è il gadget nuovo! Va bene, è un bel gadget, però... Vabbè! Ragazzi, per questo video è tutto! Ci vediamo alla prossima! Vi ricordo ancora una volta di commentare, lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici! Di tutto questo, ciao!